ciao sono cristian di play lover l'azienda che ti aiuta a migliorare in ambito sentimentale come lo facciamo attraverso delle consulenze a distanza e largite dei nostri coach oppure attraverso dei corsi a vivo che teniamo in presenza con l'ausilio dei nostri trainer principalmente a milano a roma ma anche su tante altre città italiane e attraverso dei video corsi cioè dei percorsi digitali che ti guardi tranquillamente da casa tua quando vuoi come vuoi tutte queste attività noi le facciamo a pagamento perché questo è il nostro lavoro di cosa parliamo oggi come conoscere una hostess di volo come conoscere una hostess di volo da dove nasce l'idea di questo video l'idea di questo video nasce dal volo dubai milano sul quale siamo stati praticamente la settimana scorsa venerdì si venerdì 19 c'era il volo dubai milano e io ero seduto su su una sedile e un certo momento ho detto beh ma perché non diamo un contenuto ai nostri utenti nostri seguaci su come conoscere nostro ostess di volo e quindi adesso vi do tutta una serie di step che sono stati già messi in atto su questo volo che vi ho appena menzionato uno cercare un punto di aggancio uno cercare un punto di aggancio nello specifico mi ricordo che questa hostess stava distribuendo i pasti e io le dissi guarda io ho già mangiato in aeroporto non mangio di nuovo il cibo che voi date e però c'era un dolcetto che assomigliava al tiramisù io sono goloso di tiramisù e ho detto guarda questo qua chiaramente in inglese questo qua lo mangio perché è molto simile al mio dolce preferito no e quindi gli abbiamo iniziato a parlare del tiramisù e ci siamo fatti due tre risate questo può essere un momento per aprire la conversazione quando la hostess inizia a distribuire il cibo e devi trovare un punto di aggancio per iniziare la conversazione 2 capire come si chiama riuscire a capire come si chiama la hostess è un grande vantaggio rispetto ad eventuali altri passeggeri perché perché nel momento in cui tu la chiami per nome la cosa il dialogo e la comunicazione è molto più personale ecco si rompe un po il legame della professionalità io mi ricordo che questa hostess andai a guardare la targhetta si chiamava andrea e poi da lì abbiamo ulteriormente parlato del suo nome mi diceva che nel suo paese è un nome per usato per le donne molto molto diffuso il suo paese appunto era la romania e niente quindi ecco se dovete conoscere una hostess di voi ricordatevi che qua ha una targhetta con il nome e quindi iniziate a chiamarla per nome 3 osserva la comunicazione non verbale osserva la comunicazione non verbale perché dico questo perché dal punto di vista verbale la ragazza difficilmente vi darà chiari segnali di interesse perché perché nel suo ambiente di lavoro perché rischia di essere giudicata dalle colleghe degli altri passeggeri quindi ragazzi dovete essere molto smart molto intuitivi e cercare di capire ogni singolo aspetto della comunicazione non verbale faccio degli esempi quando parlavo con questa ragazza lei aveva un sorriso molto marcato era molto solare e il segnale che poi mi ha fatto capire il suo interesse fu il contatto fisico sul mio braccio un certo momento stava ridendo e mi toccò il braccio no e da lì ho capito che apprezzava il mio dialogo nei suoi confronti 4 scopri qualcosa su di lei mentre è ferma scopri qualcosa su di lei mentre è ferma ad esempio dopo che ha finito di distribuire i pasti di raccogliere tutta la spazzatura magari la ragazza è ferma per qualche minuto perché deve fare qualcos'altro e quindi ad esempio potresti alzarti per andare in bagno e nel momento in cui tu la vedi ti fermi qualche minuto per fare altre due chiacchiere e magari potresti andare ad indagare su quella che è la decisione cioè il motivo che ha fatto poi appunto decidere di diventare una hostess chiaramente devi un attimo introdurre il discorso cerca di capire magari dove viene io mi ricordo che questa ragazza veniva dalla romania e vicino a da una città che era nella transilvania e se non erro la transilvania era la la città o comunque la zona era l'area dove c'era dracula no il il vampiro e allora su questo abbiamo poi scherzato detto ma non è che sei anche tu una vampira e quindi ci siamo fatti due risate abbiamo parlato per altri due tre minuti e questo visto che era molto apprezzato da parte sua perché era un dialogo come dire simpatico non invadente e anche non troppo morboso 5 chiedile il numero o contatto prima dell'atterraggio chiedile il numero contatto prima dell'atterraggio è ovvio che ha senso tutto questo se poi il tutto viene finalizzato con la richiesta del numero o di telefono o del contatto instagram facebook qualche ok perché è ovvio che per rivederla devi avere il suo numero di telefono mi raccomando che il numero di telefono contatto va chiesto prima che inizi la manovra di atterraggio perché poi chiaramente le hostess devono preparare il tutto per l'atterraggio devono controllare le cappelliere le cose eccetera 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 ok quindi siccome poi sarà impegnata chiedile il numero prima non quando stai scendendo dall'aereo prima quando è un attimo più tranquilla chiaro che come dire potrebbe anche dire di no ve lo dico però dovete guardare molto la comunicazione non verbale questa è una chiave rivelatrice niente qui da christian per oggi è tutto